La strada statale 309 Romea dal km 94-100 al 100-200 sarà interessata da lavori e il provvedimento che sarà preso per regolare la circolazione sarà il senso unico alternato, regolato mediante impianto semaforico o tramite movieri. Lo comunica ANAS. Devono essere infatti eseguiti i lavori di posa della rete in fibra ottica FTTH Fiber to the Home nei comuni di Chioggia e di Codevigo. Per poterli eseguire e in sicurezza l'attuale disciplina del traffico deve essere modificata. I lavori saranno eseguiti dal 13 al 28 marzo prossimo in fascia oraria notturna dalle 21.30 alle 6.30, esclusi festivi e prefestivi. Nelle aree di cantiere il limite di velocità sarà abbassato a 30 km all'ora e sarà in vigore il divieto di sorpasso. Inoltre se il traffico sarà elevato si utilizzerà solo il lavoro dei movieri, in tal caso i restringimenti stradali non potranno estendersi per un tratto maggiore di 500 metri. Allora siamo alla Cama, Pescheria della Cama qua ai saloni e la Cama ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa a pulizia. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero whatsapp 334 66 98 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi evitate qualsiasi tipo di stress. Grazie. Grazie a tutti. ' whole i section. 5 i section. Andiamo immediatamente tra le sau La passaggio a volte aspetizione.